molto molto bene molto molto bene, sì quando voglio quando voglio il programma perché è lui che inizia insomma abbiamo già abbiamo già iniziato a registrare buonasera a tutti, grazie per essere di nuovo qui non sappiamo ancora in che giorno verrà pubblicato comunque buonasera perché adesso per noi domenica stasera mentre voi state guardando la trasmissione stasera poi verso le 20 ci sarà la prima parte che abbiamo fatto insieme a Carlo questa è la seconda quindi o è un mercoledì o è una domenica sera anche stasera, va bene mentre guardate il video, questo video qua spero di non essermi contorto come al solito avete visto l'altro prima c'è Carlo Carlo Pallego, ora in questa sono uscite tutte con queste novità, con chi dice di sapere chi è il nome del mostro piuttosto con DNA prelevati a destra e manca io mi sono solo mantenuto a riportare la notizia vedo che comincerà a dire ma perché non lo so perché l'hanno prelevato il DNA sull'articolo che se non erro è dell'amico, era quello che ho visto io dell'amico Stefano Brugioni se non è così mi scuso ma insomma ma penso che lui scrive per per fatti di cronaca ciao Stefano e quindi niente stasera come avete visto dalla locannina abbiamo grande Carlo Pallego non lo chiamo dottore non lo chiamo che non lo chiamo niente siamo amici quindi sarebbe un po' come secondo me Cannella tutta a chiamare l'ottore e io ci diciamo il tuo è inutile tanto il rispetto c'è sempre io ti lascio io ti lascio Carlo bene Carlo perfetto anche a me è meglio anche molto più come il Carlo Monni che fu no? te lo ricordi Carlo Monni? eh sì grande attore teatrale grande conoscenza grande attore teatrale della Divina Commedia bene io ti lascio la parola sono qua ti metto come sempre sai quali sono gli orari quindi quando manco una mezz'oretta circa poi ti faccio ti interrompo vabbè da di pubblico vuol sentire te e non vuole certo assolutamente però io qualche volta ti provocherò e allora tu ti dirò solo di mettere in onda quando ti ricordo già preparato esatto allora partiamo e partiamo appunto da dove avevamo finito l'altra nella prima puntata quella che andrà in onda che è andata in onda la scorsa domenica e e vi ricorderete che è stata tutta incentrata su una una comparazione una comparazione balistica che nessuno ha mai fatto quindi come dico sempre io molto spesso i miei detrattori dicono ma tu vai contro tutti tutto ciò che hanno detto chissà quanti periti eccetera eccetera no zero perché nessun perito ha mai fatto una vera non troverete una sola carta diciamo ufficiale o ufficiosa che sostanzialmente abbia fatto un confronto tra i reperti ritrovati diciamo che certifichi un confronto di tipo balistico fra i reperti ritrovati nel tribunale di Firenze spillati al fascicolo mele nel luglio del 1982 la data esatta non lo sappiamo ma insomma però abbiamo una testimonianza che è quella del giudice tricomi che dice intorno al 20 luglio quindi questo 20 luglio è una data un po' topica come vedremo anche ora possiamo prendere quella come c'è questa data come riferimento per il ritrovamento di questi reperti sono reperti ritrovati appunto spillati al fascicolo mele che era nel tribunale di Firenze da circa all'epoca eravamo l'ottantadue da otto anni lì lì diciamo rinviati indietro dal tribunale di Perugia perché a Perugia si era svolto l'ultimo processo di appello quello definitivo che ha condannato Stefano Mele come colpevole del duplice delitto Locci lo bianco ecco questi reperti balistici erano spillati in una bustina in un fascicolo processuale non c'era filiera di conservazione del corpo di reato che vuol dire non c'era documentazione comprovante l'iter il percorso la provenienza fino a quel momento di questi reperti balistici che a rigor di logica avrebbero dovuto trovarsi più che a rigor di logica in punto di diritto o di procedura insomma avrebbero dovuto trovarsi nel deposito dei corpi di reato anziché spillati a un fascicolo processuale abbiamo visto come quindi nonostante queste condizioni singolari ecco di ritrovamento non è stato fatto ormai un esame comparativo volto a certificarne la provenienza abbiamo provato a farlo noi questo è stato l'oggetto del video appunto scorso e abbiamo visto un particolare che io dico che è decisivo ma chiaramente qui le opinioni sono abbastanza contrastanti nel mondo della mostrologia ma a mio avviso il fatto è oggettivo abbiamo infatti letto l'aperizia Zuntini del 68 mentre avevamo l'immagine abbiamo chiesto ad Angelo di caricare le foto la macrofoto dei cinque fondelli di bossolo ritrovati nel fascicolo Mere nel 1982 questi fondelli qui sono assolutamente identici comunque diciamo assolutamente analoghi a quelli ritrovati in tutte le scene del crimine sicuramente del mostro di Firenze tra il 74 quindi a partire dal 74 fino al 1985 e diciamo leggendo l'aperizia Zuntini nel 68 abbiamo fatto vedere come sia veramente difficile poter sostenere che Zuntini stava nel 68 descrivendo quel fondello di boss quello che abbiamo visto nella foto che abbiamo appunto fatto vedere nel nostro ultimo video qui sul canale di Angelo bene che cosa vuol dire questo abbiamo detto la conclusione è una che con ogni probabilità i bossoli ritrovati nel fascicolo diciamo processuale Mele nel tribunale di Firenze intorno al 20 luglio del 1982 non erano i bossoli che aveva esaminato Zuntini nel 68 abbiamo anche detto che diciamo il punto fondamentale è questo cioè per essere sicuri diciamo affinché si possa dire con certezza che l'arma fosse identica tra il 68 e quella utilizzata appunto in tutti i dubbici omicidi delle coppie tra il 74 e l'85 l'eguaglianza la corrispondenza dei segni sul fondello dei bossoli è condizione assolutamente necessaria non bastano abbiamo detto le microstriature per esempio sulle palle proiettili essendo questi diciamo una caratteristica che specie è in assenza di arma è in assenza di rilievi fotografici ricordiamo sempre che non ci sono rilievi fotografici se non quelli fatti ai reperti ritrovati nel 1982 ma non abbiamo nessun rilievo fotografico fatto diciamo nel nel 68 diciamo preso prima del ritrovamento di questi reperti nel tribunale di Firenze quindi in queste condizioni assolutamente è in condizione necessaria per poter affermare che l'arma sia la stessa l'uguaglianza dei segni sul fondello dei bossoli l'uguaglianza dei segni sul fondello dei bossoli che pur diciamo in una perizia che presenta alcuni aspetti di vaghezza quello del 68 di Zontini però diciamo è abbastanza chiaro è inatti Zontini descrive un solo segno non lo posiziona nella parte sinistra del bossolo del fondello del bossolo guardando sinistra per chi guarda il bossolo descrive un solo segno e lo attribuisce al meccanismo di espulsione d'arma e lo descrive come quasi irrilevabile non lo posiziona con esattezza però è lì nella parte sinistra nella sezione sinistra del fondello di questi bossoli di tutti e cinque i bossoli che il fondello di bossoli che Zontini ha esaminato nel 68 ebbene lo posiziona non lo posiziona diciamo in maniera precisa ma lo descrive quale segno dell'espulsore quasi irrilevabile avevamo mentre leggevamo questo avevamo la foto di un del fondello diciamo che tipicamente del del tipico fondello di un bossolo esploso dall'arma del mostro e lì diciamo questa descrizione che Zontini fa nel 68 è proprio un qualcosa che non si capisce come possa essere ricondotto a un fondello esploso dall'arma del mostro di Firenze è molto semplice è in atti è scritto diamo atto ai vari nostri critici che la perizia Zontini nel 68 presenta degli aspetti di indeterminatezza per esempio un errore grosso che ha fatto Zontini è non posizionare precisamente questo segno che lui rileva nella parte sinistra del fondello dei bossoli da lui esaminati nel 68 lui dice di norma è circa a ore 20 quindi si può pensare che questo segno quasi rilevabile lo abbia visto in un intorno di ore 20 ma dato che usa appunto la locuzione di norma uno può anche dire beh di norma in armi di quel tipo ma non sappiamo esattamente dove era quindi quello del 68 però c'è solo quel segno lì mentre sul fondello di un bossolo qualunque esploso dall'arma del mosto di Firenze in quella sezione c'è un segno indescrivibile non descrivibile come quasi irrilevabile perché è un segno netto preciso visibile a occhio nudo sicuramente diciamo visibilissimo con una strumentazione ottica anche rudimentale e che tutti i periti dal 74 in avanti compreso Zuntini nel 74 descrivono come invece marcato come chiaramente impresso nessuno ha utilizzato l'espressione quasi irrilevabile quindi la vulgata che per 40 anni come dire è venuta fino a noi e cioè che è sicuramente l'unica una delle cose poche certe è che l'arma sia la stessa e no è una delle poche cose non certe volendo essere buoni ma guardando queste descrizioni noi diciamo che i bossoli dell'82 non sono non erano quelli che Zuntini aveva esaminato nel 68 quindi e questa non è tanto non ci vuole tanto diciamo l'esperto balistico per dire questo basta leggi basta come dire è un problema di lingua italiana se si può dire no Zuntini è chiaramente detto segno dell'espulsore quasi irrilevabile questo tipo di di descrizione non esiste non c'è in nessun'altra perizia fatta dal 74 fino ai nostri giorni compreso torno a dire Zuntini nel 74 cosa ci dice questo ma se i bossoli che erano nel fascicolo del processo Mele erano sostanzialmente erano diciamo così non erano quelli che abbiamo che aveva esaminato Zuntini nel 68 beh allora qualcuno ce l'ha messi successivamente al 68 questo è quello che si può diciamo dire e si può dire anche un'altra cosa dell'arma vuol dire che l'arma del mostro di Firenze è un'arma dello stesso identico tipo o classe di quella che ha sparato a Castelletti di Signa nel 68 ovvero potrebbe anche essere l'arma di Signa che ha ucciso l'occino bianco comunque che ha sparato nel 68 e i cui bossoli sono stati ripertati su quella scena del crimine quindi lungo l'argine del vingone ma vuol dire se fosse quella che quest'arma è stata oggetto di modifiche di modifiche dopo il 68 e prima ovviamente del settembre 74 perché nel settembre 74 sulla scena del crimine della Rabatta vengono repertati bossoli che presentano esattamente i segni che vedremo poi in tutti i successivi duplici delitti sul fondello dei bossoli in quelle occasioni come dire repertati quindi questa manutenzione questo intervento modificativo dell'arma che ha sparato nel 68 deve per forza essere intervenuto dopo ovviamente l'agosto 68 ma prima del settembre 74 abbiamo anche detto che questa differenza in realtà non è decisiva non è decisiva perché quello che a noi interessa è una cosa che nel luglio 82 per aprire la pista sarda bisognava mettere che qualcuno come ho detto prima mettesse questi reperti balistici in particolare i bossoli i bossoli perché i bossoli perché sostanzialmente si poteva anche se ci fosse stata sostituzione che è la cosa che io credo è più probabile bastava sostituire i bossoli e lasciare i proiettili originali del 68 nel fascicolo non avendo l'arma è impossibile sarebbe impossibile senza l'arma sarebbe stato ed è impossibile distinguere o come dire andare a scoprire che i proiettili sono stati esplosi da un'arma mentre i bossoli da altra arma dello stesso tipo o dalla stessa arma ma modificati impossibile perché manca l'arma mancano foto quindi sostanzialmente la scelta razionale sarebbe stata quella di sostituire solo i bossoli e io credo che sia stato fatto questo se erano stati sostituiti solo i bossoli da che si vede questo appunto dal 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 confronto con la perizia Zuntini del 68 ok quindi quello che importa è questo che per aprire la pista sarda nel luglio 82 per forza di cose si dovevano sostituire questi bossoli mettendoci i bossoli che presentavano segni esattamente come li lasciava l'arma del mostro quindi esplosi dall'arma del mostro qui l'elemento veramente grosso è questo chi ha fatto quel depistaggio ha messo dentro bossoli esplosi dall'arma del mostro quindi chi l'ha fatto in qualche modo aveva la disponibilità diretta o indiretta dell'arma del mostro cioè la possibilità di acquisire ovviamente da qualcuno che aveva questa disponibilità bossoli esplosi a questo scopo dall'arma del mostro di Firenze quindi questo è un elemento decisivo che come dire cambia la prospettiva con cui dobbiamo andare a guardare l'intera vicenda del mostro di Firenze quindi la domanda è a questo punto no? bene ma se è successo questo è questo a mio avviso è provato è provato da quello che abbiamo detto nel precedente video ok? cioè come si fa a sostenere che i bossoli che sono stati trovati nell'82 siano quelli del 68 purtroppo i segni non collimano e questi segni sul fondello sono fondamentali non è possibile con segni diversi andare a come dire concludere che l'arma sia la stessa l'uguaglianza dei segni sul fondello dei bossoli è condizione assolutamente necessaria per poter dire che un'arma è quella che ha sparato in quell'occasione dove sono stati repertati determinati bossoli se è quella bisogna che i segni sul fondello siano quelli che lasciava quell'arma lì se i segni sono diversi non possiamo concludere questo e questo è praticamente agli atti e come dico come ho detto prima non sventisco nessuno perché nessun perito nessun documento ufficiale voi troverete mai agli atti nessun documento ufficiale che dica sì i segni sul fondello dei bossoli che lasciava l'arma del mostro coincidono con quelli del 68 esaminati da Zontini questo confronto non è mai stato fatto e questo è ben strano considerate le condizioni di ritrovamento di questi reperti bene allora chi è stato a fare questo depistaggio ecco un'altra diciamo delle argomentazioni Angelo ci sei? assolutamente sì avevi bisogno a volte bisogna essere solo no sono qua non ti disturbo non ti preoccupare se nel caso mi dovessi assentare ti dico faccio che devo fare e ti continuo a parlare tranquillo la domanda che dobbiamo porci dopo aver visto queste e esaminato e appurato queste discordanze che sono oggettive e ricordate quegli scenari che vi ho fatto vedere nel video scorso quelli sono importantissimi pensa Angelo che io sto cercando eppure è semplice io dico solo quali di questi scenari voi pensate che abbiano portato a scrivere Zuntini nel 68 che questi che ci sono segni quasi irrilevabili di estrattore e di espulsore ma quello che rileva è l'espulsore cioè perché ha scritto questo nell'ipotesi che avesse davanti un bossolo o bossoli esplosi dell'arma del mostro dell'idenza e io ho fatto tutti i possibili scenari l'ho fatto nel precedente video fatti cinque se ricordate è un po' quello che in statistica si chiama lo spazio degli eventi cioè tutti gli eventi possibili e tre di questi cinque vanno contro la mia tesi Zuntini ha di fronte i bossoli esplosi l'arma del mostro e io ho detto scegliete dite qual è il vostro scenario oh nessuno ha risposto nessuno risponde salvo quelli che diciamo mi vengono dietro che hanno la stessa mia tesi ma vedremo vedremo la trasmissione di stasera vediamo se stasera sì sì perché sul gruppone sui vari zero cioè praticamente chi osteggia la mia tesi non ha il coraggio poi di rispondere perché io la chiamo fuga dalla realtà perché chiaramente se tu vai di fronte a questi scenari ti rendi conto quando dici vado a scegliere questo scenario che Zuntini che ha davanti i bossoli esplosi dell'arma del mostro ti rendi subito conto è inverosimile che Zuntini possa aver commesso un errore del genere pur dicendo che Zuntini di errori ne commette pur dicendo che la perizia del 68 non è precisa ma che un perito balistico munito di strumenti ottici professionali possa aver commesso l'errore di descrivere in quella maniera come ha fatto lui nel 68 la parte sinistra del fondello dei bossoli da lui esaminati nell'ipotesi che questi bossoli fossero esposi dell'arma del mostro di Firenze è impossibile è praticamente impossibile non è questo un errore un'imprecisione una distrazione vuol dire essere ciechi completamente ciechi ovvero vuol dire come dire aver perso completamente di vista qual è lo scopo di un accertamento balistico di quel tipo cioè descrivere con precisione i reperti che si hanno di fronte ed è tanto più impossibile perché l'abbiamo detto l'altra volta nel 74 stesso tipo di proiettili a palla ramata stesso tipo di cartucce a palla ramata eccetera eccetera quindi bossoli di cartucce a palla ramata perito uguale Zuntini descrive perfettamente i segni che si trovano sul fondello di quei bossoli e che sono esattamente quelli descritti da tutti gli altri periti successivamente quindi l'unica voce fuori dal coro è Zuntini 68 ma io non so come questi detrattori continuano a dimmi che io non ho le proche vedo cose mi faccio i fantasy dicono alcuni sciocchi personaggi no? ma questo qui però sta aia si può sapere il nome di chi l'ha detto oppure preferisce non ma guarda questi qui sì mi spiace anche dirlo però devo dire e dico pubblicamente che sono sciocchi non hanno nessuna alcune uno è Luca Olla e l'altro è Simone D'Angelo che Luca Olla lo conosco è mio amico lo saluto rimane comunque il mio amico anche se dicono sciocchezze perché questo è agli atti non è un fantasy basta vedere le fotografie le macrofoto che oggi disponiamo ma qualsiasi bossolo esploso dall'arma non sono quelli dell'82 tanto che quelli dell'82 sono segni del tutto analoghi a quelli degli altri e poi purtroppo non abbiamo foto originali del 68 ma anche questo ti pare normale che non ci siano foto del 68 era un duplice omicidio assolutamente dove e dove quindi non era un furto di galline dove l'arma non si è trovata e quindi è normale che un perito ufficialmente incaricato di fare una perizia in un caso di questo tipo con l'arma che non si è trovata non fa le foto dei reperti balistici che sa però si attaccano pure a questo che invece va assolutamente a favore della mia tesi ma è come ci ripeto che si tratta di essere intelligenti o di avere onestà intellettuale purtroppo quando ci sono tesi da difendere robe varie questo viene meno ma comunque diciamo questa non è una fantasmia l'hai visto anche te Angelo nel video che andrà in onda stasera noi quando questo andrà in onda e la gente lo avrà già visto noi abbiamo fatto vedere foto di fondelli di Bosso esposi e abbiamo chiesto a tutti quanti ma come è possibile secondo voi che Zuntini nel 68 descrive che sulla parte sinistra dove c'è un segno orizzontale netto visibile da tutti anche a occhio nudo ripeto sì in qualche bossolo è più visibile in qualche altro meno ma che parliamo di periti professionali non di dilettanti di gente che ha degli strumenti ottici quel segno orizzontale centripeto come si dice a ore 21 sul fondello dei bossoli mettendo a ore 00 il segno del percussore è stato da tutti i periti tutti nemmeno uno tra il 74 in poi quindi fino ai nostri giorni descritto come segno netto marcato impresso dal meccanismo di espulsione dell'arma Zuntini nel 68 invece attribuisce non posizionandolo in maniera precisa il segno diciamo descrive quale segno dell'espulsore è un segno quasi irrilevabile probabilmente stando a quello che scrive nel 68 in un intorno di ore 20 quindi neanche a ore 21 però qui non c'è certezza ripeto perché sfortunatamente Zuntini nel 68 usa la locuzione di norma qui sì io ammetto infatti questo modo di scrivere una delizia balistica è contestabile a Zuntini però un conto è dire che scrive cose vaghe non precise che doveva essere molto più preciso un altro conto è digli che è cieco perché questi altri gli dicono invece che è cieco quando poi la vista la riacquista miracolosamente nel 74 quindi nella sostanza i bossoli ritrovati a Firenze nel 1982 non sono quelli esplosi esplosi sicuramente dall'arma del mosto di Firenze non sono quelli che Zuntini aveva esaminato nel 68 come del resto logicamente si evince anche se questo non prova definitivamente ma logicamente si evince erano in una bustina spillata è un fascicolo ma è normale ma dovevano essere nel deposito dei corpi di reato senza una foto senza un documento no? oh quindi tra le altre argomentazioni che i miei detrattori spesso dicono è ma questo ma per far ma chi ma questo depistaggio era impossibile perché chi è che poteva fare un depistaggio così preciso sostituire i bossoli il numero che ci voleva esattamente perché sostanzialmente c'era della documentazione no? comunque rimasta in atti che è la perizia Zuntini nel 68 e la catalogazione fatta da Zuntini sempre nel 68 che associava un tramite a ciascuno di questi reperti no? un tramite vuol dire una traiettoria di colpo no? e quindi dicono ma per chiunque sarebbe stato impossibile fare una cosa del genere e qui l'argomentazione è in parte corretta ma non si tiene conto che dovrebbero dire questo che è firmato proprio per quello che loro dicono sono pochissimi i soggetti che potevano fare una sostituzione di questo tipo ok? cioè di mettere esattamente quello che ci voleva nel fascicolo mele in maniera tale da non commettere marchiani errori che avrebbero fatto subito diciamo sgamare mangiare la foglia no? ai magistrati e al perito balistico incaricato dicendo ma questi non sono i reperti balistici del 68 quindi primo punto bisognava avere tutta la documentazione davanti a sé chi ha fatto quel depistaggio aveva tutta la documentazione relativa al caso del 68 davanti a sé compresa la perizia Zuntini del 68 e la catalogazione fatta da Zuntini dei reperti da lui esaminati associati ciascuno a un preciso tramite questo è stato un po' come dire anzi ha facilitato chi ha fatto questo depistaggio perché sapeva leggendo questa documentazione cosa 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 gli serviva quanti bossoli quante se ha sostituito o immesso sostituito solo boss abbiamo detto se non ci fosse stato nulla avrebbe dovuto immettere anche proiettili ma lo sapevo quanti perché erano descritti sia nella perizia Zuntini del 68 sia appunto nella catalogazione fatta dallo stesso Zuntini in quell'anno io dico che sono che c'erano questi reperti c'erano sicuramente anche se a Perugia il fascicolo venne rinviato a Firenze nel 1974 questo lo sappiamo però a Perugia non c'era scritto che era allegato al corpo di reato c'era scritto che si restituiva appunto la documentazione processuale non veniva specificato quindi non siamo sicuri diciamo che questi reperti ci fossero ma è ragionevole che ci fossero perché sicuramente questi reperti c'erano erano stati esaminati erano stati messi quale corpo di reato agli atti diciamo del del processo contro Stefano Mele e quindi sostanzialmente c'è stato sicuramente il momento in cui questi reperti c'erano io credo che sono stati sostituiti quindi non immessi ex novo ma se c'è sostituzione la soluzione scelta la soluzione razionale diretta pulita era sostituire solo i boss lasciando i reperti originali nel fascicolo tanto come vedremo avendo il mostro scelto un'arma di analogo tipo se non addirittura quella del 68 ma modificata i reperti le le palle o proiettili avrebbero sicuramente non avrebbero distato nessun problema di quadratura ci sarebbero state sempre le sei righe destrorse e quelle individuano un'arma di quel tipo a canna lunga non individuano una singolarità d'arma ma una classe d'arma ok quello che non individuava la classe d'arma quindi erano i segni sul fondello dei bossoli quelli però dovevano essere cambiati perché altrimenti non si poteva aprire la pista sarda in quanto all'esame balistico di spampinato si doveva risultare che i segni sul fondello erano gli stessi di quelli esplosi dall'arma del mostro di Firenze nell'occasione nell'82 i bossoli che furono confrontati furono quelli appunto trovati a Firenze con quelli della roveta quelli che erano stati repertati in via dell'arrivo nel giugno 81 l'anno precedente sostanzialmente e è venuto fuori l'ovvio è esattamente i bossoli dell'82 che erano nel fascicolo mele erano esplosi dal mostro di Firenze ma è la provenienza ecco e qui c'è l'altro tema quindi chi chi ha fatto il depestaggio doveva avere tutta la documentazione davanti a sé anzi doveva avere la disponibilità del fascicolo anche perché doveva avere la possibilità seguimi di andare a levare quelle carte e quel materiale che avrebbe potuto compromettere l'apertura della pista e lasciare invece in quel fascicolo solo la documentazione che serviva e che era utile invece ad aprire la pista quindi doveva avere la disponibilità incondizionata totale senza problemi di una documentazione che non era così disponibile per tutti e qui è i miei detrattori che mi dicono eh ma allora vedi che è impossibile no perché bisogna ti dice chi è stato ti dice chi è stato allora chi poteva avere tutta la documentazione davanti a sé quando è stata lanciata l'operazione Castelletti di Signa è sicuramente chi aveva indagato su Castelletti di Signa chi aveva condotto le indagini di polizia giudiziaria ma non solo nel 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 68 e non solo costui era anche soggetto che godeva della fiducia incondizionata dei magistrati incaricati del caso del mostro perché era sostanzialmente anche colui che nell'82 aveva la titolarità della funzione di polizia giudiziaria o comunque era la figura di riferimento nell'ambito della funzione di polizia giudiziaria che diciamo noi sappiamo che negli anni in cui il mostro rimase in attività fino ad almeno tutto il 1984 è stata è stata in mano ai all'arma dei carabinieri della provincia di Firenze in particolare del comando di Borgogni Santi nucleo investigativo di Borgogni Santi e il cui uomo di riferimento che era quello che aveva indagato nel 68 sul caso di Castelletti di Signa era il tenente colonnello 82 nel 68 era tenente Olinto dell'Amico e questo e Olinto dell'Amico aveva la fiducia incondizionata dei magistrati incaricati del caso del mostro e in particolare del magistrato che fu spinto da chi? da lui da lui e dal suo sottoposto subordinato maresciallo Fiori ad andare alla ricerca del fascicolo Mele dove c'era il fascicolo e la sorpresa di Pasqua allegata che avrebbe fatto aprire la pista sarta e quindi diciamo chi è che ha mandato i magistrati incaricati delle indagini sul mostro che prima di quel momento del caso di Castelletti di Signa Angelo non avevano mai sentito parlare proprio lo ignoravano totalmente ricordo che i magistrati ci sono tre il giudice istruttore Tricomi e i due PM Izzo e della Monica Adolfo Izzo Vincenzo Tricomi Adolfo Izzo e Silvia della Monica questi tre magistrati del caso di Castelletti di Signa non sapevano niente neanche dell'esistenza chi ci è andato da loro chi ha portato il macigno della pista sarda del caso di Castelletti di Signa nel corso delle indagini nel mostro di Firenze questo è avvenuto nella prima quindicina di luglio sicuramente prima del 17 luglio 82 perché lo sappiamo nel 17 luglio abbiamo il documento in cui Tricomi si attiva a Perugia e ora veniamo un attimo con anche questa singolarità si attiva sul tribunale di Perugia perché gli mandasse sto fascicolo processuale Mele quindi il 17 luglio si attiva Tricomi quindi questi contatti dell'amico e del suo subordinato Fiori col Tricomi sono precedenti nella prima diciamo nella prima quindicina di luglio dell'82 ok e quindi chi è che va perché si ci va anche Fiori sappiamo che Fiori va proprio anche fisicamente però viene diciamo fatto viene preceduto la sua visita nell'ufficio di Tricomi da una telefonata del suo capo dell'amico ed il resto Fiori è subordinato dell'amico nel nucleo investigativo per chi conosce un po' l'ambiente militare particolare anche quello dei carabinieri non è che il maresciallo Fiori prende un'iniziativa sua diciamo se non ha un ordine preciso dal suo capo non è che va a parlare con il giudice istruttore buttandogli lì una bomba di questo tipo sicuramente no? deve essere deve l'input è venuto da dell'amico e dell'amico chi è? dell'amico era colui che aveva indagato 14 anni prima sul caso di Castelletti di Signa e che aveva tutte le carte che abbiamo detto prima necessarie a mettere a imbastire quest'operazione di depistaggio diciamo così o comunque di come dire falso segnale tecnicamente cioè io metto un falso segnale che mi indirizza il corso delle indagini in una certa direzione la direzione sappiamo qual è Castelletti di Signa ma non basta la direzione era un un ristretto gruppetto di persone che era già stato chiamato in causa per quel duplice delitto all'epoca dal dallo Stefano Mello eh a più riprese balbettando perché il Mello è un soggetto subnormale si è potuto fare quello che si è fatto nel 68 perché il Mello è un soggetto subnormale e chi gli ha strappato la confessione questo ci torniamo tra un attimo dopo sia quelle buone che quelle cattive a Borgognisà assistito non da un legale ma da uno che semmai doveva essere sospettato perché c'era anche la testimonianza di un bambino che è Natalino che diceva di averlo visto questo zio il zio Piero che poi nel biglietto se non ci fu vera fuori in biglietto anni dopo con zio Pieto vabbè comunque era Piero Mucciarino lo zio vero del Natalino che Natalino vede sulla scena del crimine ha detto ora vede che getta via un'arma una pistola nei pressi dell'auto dove era lui e dove erano anche i calaveri della mamma e dello zio finto Antonio Brugiano e questo qui invece lo troviamo tutore assistente negli interrogatori a Borgogni Santi del poveraccio Stefano Mele del subnormale oligofrenico Stefano Mele ok questo chi ha condotto quest'operazione in 68 scusami è subnormale non l'avevo mai sentito è subnormale è un soggetto al limite del subnormale questo devo dire non è e mi prendono tutte le responsabilità è un soggetto che non spiccica una parola dietro l'altra assolutamente manipolabile e chi ha fatto quelle indagini lo ha visto con i suoi occhi ha visto con i suoi occhi che non era possibile che era lui aveva ammazzato la moglie con l'amante nonostante le apparenze perché era comunque la moglie beccata fa sesso in auto con un altro però questo era abituato a questa situazione da anni certamente non era un tipo geloso il nostro buon Natalino il nostro buon Natalino era un soggetto al limite subnormale oligofrenico conclamato disturbi di personalità personalità assolutamente gregarie e chi è che sfruttando questa personalità l'ha portato gli ha strappato la confessione assistito come tu sai bene dal Piero Mucciarini negli interrogatori di Borgogni Santi torno a dire Piero Mucciarini che doveva essere indagato semmai non preso come sorta di nocione non dico legato testimone sì ok però l'avevano visto sulla scena del crimine e guarda caso come il Natalino aveva avuto il malore proprio il giorno del dubbio delitto che gli aveva impedito di regolare il giorno di lavoro al cantiere dove lavorava anche il Piero Mucciarini aveva un permesso per quella notte faceva il fornale insomma c'erano vari aspetti per cui io non l'avrei preso come tutore un testimone come dire e poi lo dico io come c'è che ha fatto ha convinto Stefano Mele che era la cosa meglio per tutti che si prendesse lui la responsabilità di quel dubbio delitto il regista di tutto questo è colui che nell'82 è quello che è più probabilmente il regista dell'operazione dell'82 di depistaggio e comunque è oggettivo che sia lui che questo qui volinto dell'amico cioè è colui che è andato dai magistrati da uno Trico con cui aveva un rapporto consolidatissimo questo ora lo vedremo e gli dice deve andare a prendere il fascino dove c'era la sorpresina che abbiamo detto prima i reperti balistici stranamente spillati senza documentazione e poi quando si va a vedere i bossoli e viene fuori che sì sono quelli esposti dalla pistola del mostro ma leggendo la brincia di Azzuntini non sono quelli esaminati da Azzuntini nel 68 quindi primo sospettato Olinto dell'Amico ok benissimo l'Olinto dell'Amico andiamo a vedere le condotte di questo di Olinto dell'Amico in occasione di questi incontri con Tricomi dell'interlocuzione con Tricomi che viene a viene a come dire che porta conduce poi all'apertura della pista allora la cosa che viene all'occhio subito cosa che dobbiamo sottolineare è che in questa interlocuzione il nostro buon dell'Amico con il suo sottoposto Fiori quindi però torno a dire parliamo di dell'Amico perché il maresciallo Fiori era un subordinato di dell'Amico uomo di fiducia dell'Amico quando dico questo ex di Borgo Gogni Santi si dice ma non è vero che Fiori era un uomo di fiducia chi l'ha detto di no era sottoposto di dell'Amico al nucleo investigativo e dell'Amico usa lui per aprire la pista sarda non è che usa uno qualsiasi ebbene i due e lo dimostra cosa che i due dicono bugie e sai dal punto di vista investigativo quando uno dice una bugia è chiaro che viene a essere una figura interessante no? questo è una normale è un normale criterio investigativo quali bugie dicono dell'Amico con il suo sottoposto Fiori al trigo prima bugia tanto gli dicono subito che deve chiedere il fascicolo Mele unitamente al corpo di reato così scrive il tricomi il 17 luglio ma ricordiamoci sempre una cosa Angelo che il tricomi sa e dice riguardo Cassetti di Signa tutto quello che gli dicono gli dicono di fare dell'amico e il subordinato dell'amico Fiori perché lui prima di quel momento Castelletti di Signa forse ma non sa neanche che esiste credo sulla carta geografica sicuramente e sicuramente mai ha sentito parlare del duplice delitto l'occilo bianco era 14 anni l'unico che aveva sentito parlare in procura è Vigna che era all'epoca diciamo diciamo nel era già a Firenze e quando nel 68 accadero questi fatti no dell'agosto 68 ma in questa vicenda non si ha traccia di 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 un intervento una un'istruzione una comunicazione del del procuratore Vigna questa vicenda dell'estate 82 di sicuro diciamo il giudice istruttore con cui si interloqui esclusivamente con lui nel luglio 82 per aprire la pista sarda chi interloqui dell'amico sì con il suo subordinato fiore ma io dell'amico beh questo qui di della il il tricomi fa quello che gli dice dell'amico e che fa il 17 luglio dell'amico scusate tricomi dice a Perugia a Perugia a Perugia mi dice mi date il fascicolo col corpo di reato allegato ma Cristo Santo quindi si sapeva che c'era un corpo di reato che tu mi darai atto io non voglio di che questo provi nulla cioè il fatto che mancava la documentazione la filiera eccetera io il discorso del depistaggio lo provo fondamentalmente il fatto che non quadrano i segni sul fondello dei borsoli però è vero che non c'era filiera di conservazione non c'era foto non c'era niente e che si era a 14 anni dalla polizia Zottini nel 68 e a 8 anni nel 82 9 scusate dalla da cosa dalla sentenza definitiva a carico del 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 mele quindi non è non era assolutamente detto che il corpo di reato si trovasse spillato a un fascicolo no? questo anche i miei detrattori dovrebbero ammettere invece di sparar cazzate come spesso fanno no? scusate che bevo ma non ammettono neanche questo ultimamente si è fatto un sacco di detrattori però diciamoci la verità cioè sono aumentati col tempo beh diciamo allora sono aumentati tanto quello che mi seguono però non sono mostrologi o gente che frequenta certi ambienti ma io vado molto volentieri negli ambienti frequentati dai miei detrattori perché le loro critiche strumentali invece mi rafforzano mi fanno avere degli spunti interessanti mi fanno mettere a punto la mia ricostruzione questo perché come dire a volte ti aiutano più le critiche che non ci gli applausi anche se le critiche sono non oneste come spesso sono perché chiaramente e quindi a me non mi interessa i detrattori io faccio i miei video c'è tanta gente che mi seguono non è un problema quello te lo dico cioè però ecco queste critiche mi aiutano proprio a focalizzarmi sugli aspetti fondamentali cioè quindi dell'amico dice al trigomi che c'è un corpo di reato attaccato o perché usa l'espressione in una con il fascicolo mi vorrete trasmettere anche il corpo di reato il corpo di reato quindi non è che scrive nel caso ci fosse un corpo no in una col fascicolo mi dovete trasmettere il corpo di reato ma tu sai che c'è un corpo di reato e non è affatto scontato sai chi no trigomi ma quelli che ci hanno mandato dell'amico sai che c'è un corpo di reato ma gli dice andate ma è sbagliato era da otto anni che era a Firenze giusto Angelo che sono fatti sì sì assolutamente no no ma io non guardo allora non dare adito al fatto che io sto zitto no no lo so ma mi piacciono speriamo che magari in chat poi qualcuno mi venga a criticare perché è importante ci ripeto avere critiche comunque sia d'aiuto d'aiuto a mettere a punto il ragionamento è intelligente mettere a punto il ragionamento è sciocco invece non cambiamo mai idea non andrà dritti come un treno no il cioè quindi il 17 luglio il Trico mi chiede a Perugia un fascicolo col corpo di reato e chi è che dice chi gli ha detto che era a Perugia quelli che ci hanno mandato ovvio perché gli dicono che è a Perugia quando questi tu pensi cioè si pensa davvero che uno che aveva indagato sul caso dei cassetti di signo titolare della funzione dei poliziari uno che entra e esce per mestiere dai tribunali per consultar carte fascicoli eccetera eccetera pensa che c'è pensa che il fascicolo mele è a Perugia quando era da nove anni o otto otto nell'ottantadue a Firenze beh ragazzi se volete credere alle favole credeteci perché gli dice Perugia secondo me per non dare l'impressione che sapesse esattamente dove era sto fascicolo e cosa c'era dentro cioè che non l'avesse seguito nel corso e del tempo e si capisce perché perché si doveva nascondere la mano che stava lanciando il sasso qual era la mano quella dell'amico quale sasso stava lanciando stava prendo la pista salta questo quindi è chiaro che non mi faccio vedere che so esattamente che dove è il fascicolo e dove è il corpo del reato con il fascicolo e già questo era una cosa un minimo sospetta invece si usa con il tricomi come vedremo ora meglio con la questione della lettera anonima si usa la tecnica e la usa magistralmente il tenente colonnello dell'amico la tecnica della comunicazione ehm ambigua equivoca è una tecnica della deception no? a cui diciamo certi certe figure sono state intensamente addestrate questo lo sappiamo da documenti storici nel corso degli anni sessanta in particolare anche in basi militari quali quella di Camderri per esempio il vedremo infatti chi qual era il ruolo che dell'amico aveva un proprio un ruolo parallelo non alla luce del sole era sì la figura di riferimento nonché memoria storica anche se fa un po' sorridere visto Castelletti di Signa ma lo fa apposta non è che si era dimenticato di Castelletti di Signa quello ci può credere appunto Olla e altri come lui ma ovviamente pensare che si fosse dimenticato di un caso che segue che diciamo che ha che ha lui indagato interrogato è riuscito a strappare la confessione a Stefano Mele sopra luoghi non era un caso banale Castelletti di Signa no? pensare che l'avesse completamente dimenticato fa sorridere fa veramente in realtà in realtà si è dato molto a fare certo lui ha condotto l'indagine col suo braccio destro un matassino ora vedremo se abbiamo tempo di due parole anche su questo ma è veramente fantascienza pensare che se ne fosse completamente dimenticato giusto? oh il quindi sostanzialmente il stiamo dicendo cosa che si che mandano che dicono a Tricomi che si ma la comunicazione è ambigua cioè ci dovrebbe essere forse un corpo di reato secondo me il fascicolo è a Perugia in quella maniera non ci si fa vedere informati su cosa c'è e dove è quel fascicolo importante perché è importante caro Angelo perché quello che si sarebbe trovato e che avrebbe aperto la pista sarda erano bossoli esplosi dall'arma del mostro di Firenze assolutamente era una cosa radioattiva quella che si stava facendo con rischi non da poco però il livello di informazioni di uno come dell'amico e la capacità la sua ricaduta sul giudice e struttore erano tali che questi rischi lui li poteva gestire e poi vedremo perché si è fatto questo quindi prima bugia la seconda bugia dove anche qui un capolavoro di tecnica di comunicazione ambigua è quella della lettera anonima ci sono ci sono non sono non sono sparito compriamo subito un campo una leggenda la memoria del maresciallo Fiori che è quello che credono tutti questi geni è stato un maresciallo Fiori posto che lui non c'è un documento che ci dica sicuramente non si è mai occupato dell'indagine di Castelletti di Signa a differenza dell'amico ma non c'è una straccia di carta che ci dica che era a Signa a distanza nel 68 perché invece c'è stato detto questo che Fiori era a distanza a Signa nel 68 ed è per questo che si è ricordato anche se non ha partecipato all'indagine del caso di Castelletti di Signa beh io dico me lo portate una qualche carta che era a distanza a Signa non si trova ha cercato anche a lungo l'avvocato Iveri Adriani personaggio di grandissimo valore che lui ha detto io non ce ne sono che era a Signa quindi ce l'hanno detto va bene guarda mi scusami mi stufato Iveri Adriani mi voglio assolutamente aggiungere a te con il fatto che sia io lo ammiro molto come ammiro molto Giuliano Mignini sono tutte persone che stimo Tania è una persona molto seria quindi molto seria molto preparata esatto preparata e con estrema professionalità lo salutiamo nel caso sì sì assolutamente e comunque è una persona veramente queste sono persone intelligenti con cui vale la pena discutere no? assolutamente come a dire io vado spesso negli ambienti dove magari mi attaccano mi diverte da un lato dall'altro come dire mi consente anche di affinare certe tesi bene il quindi dicevo e sfatiamo subito questo fatto il la leggenda della reminiscenza di fiori che parlando col suo collega Piattelli si ricorda sai quando viene fuori Angelo ti dico subito viene fuori a novembre dell'ottantaduno novembre ottantaduno quando cioè la pista sarda divenne di dominio pubblico che vuol dire dominio pubblico vuol dire che la gente venne a sapere che si era aperta sta nuova pista investigativa e che c'era già un sospettato in galera un sospetto mostro che sappiamo noi tutti essere Francesco Vinci ok bene prima del novembre però uno può dire però prima del novembre no ottantadue comunque l'avevano detto che era la memoria di fiori che aveva fatto ricordare del caso di Castelletti di Siglo torno a dire un caso su cui aveva indagato dell'amico con arma simile a quella dei delitti del mostro di Firenze anche in quel caso non si era mai ritrovata sempre dove sono stati esplosi sia pure a palla ramata diciamo cartucce Winchester serie H quindi della stessa serie H appartenenti quindi dallo stesso lotto ok e e a una coppia in fin dei conti era una coppia dei amanti in auto non erano giovani fidanzati come quelli del mostro ma era una coppia di amanti in auto la differenza più grossa che c'era il figlio dietro giusto il figlio di lei ma come dire un caso del genere dovevano per forza giustificarsi come mai avevano tiri fuori solo nell'82 persino uno che faceva tutto quello che gli diceva dell'amico come Trico no e ci l'avrà sicuramente chiesto comunque era ragionevole attenderselo allora uno può dire vabbè ma gli hanno detto dei fiori no le carte non dicono questo le carte che sono due importantissime richieste istanze fatte rispettivamente il 20 agosto dall'ufficio della della Monica a Borgogni Santi e il 29 ottobre dell'82 29 ottobre dell'82 dall'ufficio di Vincenzo Tricomi al tribunale di Palermo questa è una rogatoria perché voleva che fossero sentiti i fratelli Barranca i cognati di di Lobianco in relazione all'episodio della scommessa tra Francesco Inci e lo stesso Lobianco poco prima che Lobianco fosse ucciso al bar posta di di la strassigna che chiaramente ed è giusto quel caso è interessante perché può far intuire che ci fu un agguato che furono anche spinti a uscire insieme i due perché dovevano essere ammazzati insieme ok ora in queste richieste si parla esplicitamente si scrive si scrive che l'apertura della pista Sarna si è dovuta a una lettera anonima che parlava di un duplice delitto avvenuto in passato prima del 74 nella provincia di Firenze e qui i duplici delitti si ne è uno prima del 74 in provincia di Firenze ai danni analogo a quelli del mostro così scrive la della Monica al 28 uno che quindi è Castelletti di Signa non c'è versi così e ancora più esplicito addirittura il 29 ottobre è il Trico che scrive quel che si era arrivati a riaprire il caso di Castelletti di Signa che era il motivo per cui faceva la rogatoria al tribunale di Palermo per via di una lettera anonima che aveva fatto risalire al duplice delitto l'occilobiano quindi di così si muore queste carte sono quelle che abbiamo anteriormente al novembre quando viene fuori 82 quando viene fuori la storiella la leggenda del del fulminato sulla via di Damasco no? dell'antrovvisa reminiscenza del maresciallo Fiori che chissà se c'è stato a signo o no carte non c'è bene ma comunque di sicuro non aveva mai indagato a differenza del suo capo Olinto dell'amico guarda caso la memoria di Fiori però quello che con dell'amico aveva cominciato a aveva spinto fin dal luglio precedente il tricomi sulle tracce del fascicolo medio quindi non prendono uno a caso prendono l'uomo di dell'amico con cui dell'amico aveva aperto la pista sarda che aveva portato all'arresto di Francesco Vinci eccetera eccetera ok ovviamente per i sardisti tutto normale certo questo tipo i sardisti sì sì ma io non ho pinto il sì eh certo benissimo tutto normale ora comunque sia quindi le carte dicono che cosa specialmente quella del 20 agosto Angelo perché il 20 agosto siamo lì e che dice il 20 agosto Silvia della Monica dice che lei quel era già un pezzo che sollecitava verbalmente senza alcun esito Borgogli Santi di fargli arresto a lettera anonima indietro perché questi gli avevano detto che la lettera anonima e l'hanno fatto intendere a Tricomi era arrivata in procura quindi era tra quelle che la procura aveva mandato il giorno 2 luglio a Borgogli Santi Tricomi ridice questo Tricomi disinformato dai due informa anche lui in maniera sbagliata della Monica e della Monica comincia subito a chiederla quando informa Tricomi questo non lo sappiamo esattamente ma lo informa dato che della Monica dice che gli serviva questa lettera perché? perché voleva indagare sul suo autore anonimo in quanto poteva essere a conoscenza dell'identità dell'assassino questo scrive della Monica il 20 agosto perché sa della Monica quando scrive questo che in virtù di queste segnalazioni di questa lettera anonima si è andata a pescare un fascicolo dove c'erano questi reperti risultati voi esposi all'arma e il mostro si era aperta la pista sarda e quindi giustamente la Monica dice cavolo chi ha fatto questa segnalazione sapeva cosa ci avremmo trovato in quel fascicolo il problema è che la segnalazione non l'ha fatta anonimo perché la lettera anonima sul signo non esiste non c'è mai mai venuta fuori la segnalazione era fatta pur con i santi era fatta dell'amico e quindi devi sostituire nella giusta intuizione della Monica all'estensore della lettera anonima che non esiste non è mai esistita devi sostituirci dell'amico e poi vedremo perché quindi vedremo in cosa si inquadra questo questa azione dell'amico bene quindi è stata una lettera anonima hanno detto dell'amico e fiori a tricomi ma una lettera anonima su che su signo ma non esiste mai esistita una lettera anonima su signo quindi hanno mentito seconda bugia grossa la tecnica che si usò sulla lettera anonima è magistrale quindi vale la pena che mi ci soffermi un attimo perché è magistrale fa capire a cosa si era addestrati quando si era non solo ufficiali dei carabini ma anche agenti addestrati agenti appartenenti alla rete stay behind addestrati alle tecniche della deception della copertura del depistaggio e vedremo che c'è una precisa testimonianza che ci dice che Olinto dell'amico aveva questo ruolo parallelo occulto a quello della luce cioè del sole era un uomo della cellula stay behind un uomo di punta e il suo vero capo era il colonnello Federico Mannucci ben in casa che gli atti giudiziari c'è una mole di atti giudiziari ci dicono e ci dicono che era il referente primo italiano di questa cellula ok e qui sono atti giudiziari io per semplificare dico sempre andatevi a leggere la sentenza del tribunale di Bologna del 1994 cosetta italicus bis sentenza ordinanza e lì vi ripilo che un po' la figura del dell'amico scusate di Mannucci ben in casa e dell'amico rispondeva nella logica di una catena di comando una catena gerarchica parallela occulta e quindi prioritaria a Federico Mannucci ben in casa ma questo lo vediamo tra un attimo ma quale tecnica magistrale utilizza il dell'amico per confondere le acque ripeto sta nascondendo la mano che stava lanciando al sasso si sta portando nel corso del regolare indagine sul mostro di Firenze il macigno di Castelletti di Signa si sta spingendo l'indagine su una palude investigativa quella di Castelletti di Signa creata come vedremo dallo stesso dell'amico 14 anni prima quindi chiaramente deve nascondere la mano che sta lanciando al masso che non è banale lo si sta spingendo si sta spingendo quell'indagine in direzione di Castelletti di Signa perché si fanno ritrovare reperti palisti esplosi dall'arma del mostro di Firenze mica confettini è chiaro che tu ti devi tenere lontano mille mille allora come ti sei il problema era ma com'è che ti sei riportato solo ora di Castelletti di Signa beh mi ricordo solo ora poi una lettera anonima che gli si dice sta attento gli si dice che gli lasciano intendere a altri che questa lettera anonima era giunta in procura ben sapendo che non c'era una lettera anonima tra quelle giunte in procura che parlava di Castelletti di Signa non c'era nessuna lettera anonima che parlava di Castelletti di Signa e loro sapevano tutto perché ricordiamoci che gli anonimi giunti in procura erano stati già inviati il 2 luglio a Borgogni Salle quindi dell'amico sapeva perfetto che c'era in quelle lettere anonime giunte in procura ebbene ce n'era una che era quella relativa a una di queste varie relativa a un banale caso di cronaca nera avvenuto in località Galluzzo in cui un'anziana signora era stata derubata e malmenata da un balordo e che per singolare coincidenza qui aggiungo un punto interrogativo anche questo era stato un caso indagato e risolto dal giovane tenente dell'amico nel 68 una lettera anonima in cui si diceva che questo fatto del Galluzzo era il primo di cinque e non quattro delitti del mostro di Firenze questa informazione quando si va da Tricomi loro ce l'hanno dell'amico lo sa perfetto è arrivata il 2 luglio le lettere anonima e dalla procura per l'esame preliminare di polizia giudiziaria e mica devo assentare due minuti e mica le ha lette quelle lettere Silvia della Moni non le ha lette sono arrivate in procura ma lei non le ha lette perché la procedura prevedeva una certa selezione che non faceva certo il PM e poi venivano mandate per quelle selezionate quelle che non erano palesemente degli scherzi venivano mandate a Borgogni Santi per l'esame preliminare della funzione di polizia giudiziaria questo avvenne il 2 luglio ok luglio 82 e questi lo sapevano dell'amica Fiorino cosa fanno quindi e loro quindi gli dicono invece lasciano intendere a al 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 tricomi che questa anonima su Castelletti di Signa era invece tra quelle arrivate in procura ok perché lo fanno perché si lasciano aperte due possibilità di gioco con questa comunicazione ambigua equivoca no due possibilità di gioco la prima è che si sarebbe giocata nel caso di una procura che le avesse presi per il bavero mi fate vedere sta lettera anonima che voi avete letto a tricomi o che lo stesso tricomi ci fosse impuntato e avesse detto esibitemi la lettera anonima invece questo non accadde lo sappiamo l'unica che la voleva indietro era la della monica ma rimase isolata in procura ok ma loro non potevano sapere questo loro non sapevano quale sarebbe stata la reazione della procura all'apertura della pista sarda anche perché non dimentichiamoci mai la finalità di questo depistaggio questo depistaggio fu fatto non tanto come obiettivo primario per depistare ok scusate il gioco di parole ma fu fatto per andare a vedere che carte aveva in mano la procura dopo i fatti di Baccaiano anche qui mi hai detto ma perché per come ma come ma non ragionata ma l'apertura della pista sarda avviene esattamente dopo fatti straordinari mai avvenuti prima mai avvenuti dopo che erano avvenuti nella notte di Baccaiano tra il 19 e il 20 giugno del 1982 quando il mostro aveva sbagliato attaccando in un luogo così scoperto e che è successo è successo che ho che tre auto con otto potenziali testimoni passano dalla scena del crimine con l'azione ancora in corso è successo che quattro ragazzi si fermano scendono dall'auto vanno a vedere dentro non entrano nella macchina ma sbirciano dentro e vedono Paolo Manardi che era con la macchina di Manardi già fuoristrada con le ruote posteriori loro si fermano pensando che era un incidente stradale e vedono Manardi che rantolava quindi che si avvicinano alla macchina del Manardi vedono che Manardi è vivo lo testimoniano tutti e quattro tutti faccio i nomi Poggiarelli Calamandrei Marini e Bartalesi Bartalesi è l'attuale moglie del Marini prima era era fidanzata all'epoca nel 82 che erano ragazzi ora saranno più anziani tempo passa per tutti purtroppo e il loro testimoniano una cosa ho visto il Manardi tra l'altro teso sul sedile anteriore di guida ma non entrerà nelle complessità ma lo vedono vivo che cosa vuol dire questo? vuol dire che il mostro non gli aveva ancora appioppato il colpo di grazia perché quando arrivano i soccorritori per capire se il Manardi era vivo sono dovuti entra dentro tastagli il polso tastagli la giugulare hanno visto che era vivo ok quindi quattro testimoni ma è il successo in un caso di duplice delitto quattro strani all'aggressione si fermano vicino alla macchina delle vittime vanno a vedere che c'è dentro e il mostro non lo sa se hanno interloquito con il Manardi o no il mostro era nascosto dietro la macchina nel campo dietro la macchina fuori strada del Manardi ok ma non solo quando poi il mostro o i mostri che bisogna vedere quanti erano anche se sicuramente solo uno è andato all'attacco e ha sparato e ucciso nell'aggressione di Baccagliano quando si lascia la scena del crimine dell'82 inavvertitamente si lascia proprio il Manardi ancora vivo queste robe qua ragazzi non sono mai avvenute né prima né dopo il caso e l'aggressione di Ciri Baccagliano e guarda caso quindi è un caso secondo i benpensanti delle persone che hanno scarsa qui non dico il sentente intellettivo questi pensano che sia un caso sia vabbè allora si vede che c'è avvenuta la segnalazione giusta gli è venuta la memoria di fiori giusto dopo questi eventi del tutto straordinari ma come si lascia una vittima ancora in vita è una roba che non doveva accadere che cosa avrà sentito visto o ancora più probabilmente sentito questa vittima che è rimasta ancora in vita beh il mostro di qualcosa ci ha avuto paura tant'è che quando la PM gira il coltello nella piaga e viene a dire che il Mainard aveva parlato il giorno dopo scattano le telefonate esatto allora qui ti volevo fare la domanda se posso allora sai che poi alle granti che l'autista era l'autista dell'ambulanza che poi soccorsi dei due giovani sia lui che anche un infermiere se non era un medico non ricordo bene il personaggio ricevettero una chiamata uno in ospedale chiese se il Mainardi avesse detto qualcosa mi sbaglio Carlo perché certo certo e poi diciamo l'allegrante dice di essere stato tra virgolette un po' perseguitato da questo io non so se tutte le telefonate dell'allegrante siano vere questo mi sembra strane alcune che gli va a dire fai questo se no c'è minacce non mi sembra lo stile del mostro di Firenze però quantomeno le prime la prima sono sicura perché viene proprio immediatamente dopo il bleff della Delamoni ma anche quella dell'ospedale secondo te è lui è lui o uno di quelli perché io credo che sia se ho capito che ho capito o uno di quelli che come dire voleva diciamo complice facente parte del suo dalizio inteso come più persone penalmente perseguibili come sempre detto per i daitti del mostro non che tutte fossero insieme allegramente ammazzare la coppia anzi sicuramente no però sostanzialmente qualcuno il mostro qualcuno vicino al mostro certo che sia informato e ti dicono anche di più perché con l'allegrante perché sicuramente i carabinieri gli uomini dell'amico se non lo stesso dell'amico erano a Empoli e quando arriva c'è Empoli all'ospedale dove viene portato d'urgenza il Mainardi quando arriva a Empoli il Mainardi ci arriva in coma irreversibile quindi loro dicono di sicuro non ha parlato all'ospedale se è vero quello che c'era della Monica io non ci credo dicono loro però se è vero ha parlato in ambulanza e infatti tac il giorno dopo scatta la telefonata alle grandi ok ma questo perché lo voglio dire perché quindi perché si è aperta la pista salida perché il clamoroso questa clamorosa operazione false flag pista salida ma perché chiaramente diciamo a seguito di tutti questi eventi di natura straordinaria avvenuti la notte di Baccaiano in relazione alla scelta non corretta se non addirittura la disgraziata del mostro di attaccare in un luogo così scoperto non dico trafficatissimo certo ma era scoperto la macchina che passava e tu dovevi nasconditi se non volevi essere visto e questo ha dato modo a Mainardi di sentare la fuga è lì che ha scatenato tutto è lì è da questa scelta del mostro che oggi siamo in grado di arrivare al mostro perché ha scelto di attaccare in quell'uomo evidentemente voleva colpire a inizio estate e si è trovato a inizio del 82 con un problema nuovo ma è affrontato prima il problema della scarsità di coppie nei dintorni di Firenze chi aveva gli anni giusti come sottoscritto all'epoca spesso questi detrattori nei vari grupponi no che non era bello lo sai abbia l'età giusta sa che prima dell'ottobre 81 uno dei pochi dei posti dove si potrebbe trovare più coppie in tutta Italia appartate per la bellezza dei luoghi non lo so perché era attorno a Firenze che me lo ricordo dopo l'ottobre 82 c'è stato lo spopolamento non dico che era zero ma doveva andare a cercare con il lanternino questa è la verità io sono un testimone oculare di questo diretto no no va bene io ho voluto solo questa situazione io ho voluto solo chiarire anche Luca anche mio amico le dispiace se qualcuno dicesse qualcosa su di te mi arrabberei nel senso io però devo dire che mi sorprende assolutamente il perché è la verità non so fantasy come mi dico è la realtà dei fatti quindi il mostro si trova di fronte a un problema nuovo è per questo motivo che sceglie di attaccare in quel luogo Angelo perché in quel luogo si appartavano ancora perché si appartavano ancora secondo te perché si sentivano al sicuro abbiamo testimonianze di amiche di Antonella Migliorini che dicono questo Antonella non si è mai appartata aveva il terrore del mostro in quel luogo sì perché non era come quelli come gli altri cui aveva colpito fino a quel momento il mostro capito e ci sei? assolutamente sì no no ma io te lo mi è andata via ora la cosa invece no 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 ho voluto ho voluto precisare questa cosa ora io l'altro no 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 hai fatto bene hai fatto bene ho 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 fatto bene a tutti quanti anche a quelli ben più in situazioni più gravi che io faccio balenare sto dicendo che dell'amico è stato l'autore di quel depistaggio insieme ad altri quella vediamo ma mi prendo questa responsabilità quindi sempre dicendo che non concordo mai con Angelo Manotta quello che dico mai siccome io non concordo io non concordo su quello che hai detto prima ma poi siamo amici a prescindere anzi colgo l'occasione che per dirvi che sto organizzando un convegno e ufficialmente inviterò anche il qui presente va bene anche se ogni tanto gli parte la bronca che purtroppo stiamo tutti uguali quindi se vorrà venire ho già invitato altre persone sarà un bel questo verso metà sempre verso metà luglio quando me lo fai dimmelo ok perfetto però scegli in quel posto anche quello si mangia bene hai sempre sei sempre venuto hai sempre scroccato la cena hai sempre scroccato e ho mangiato benissimo va bene detta questa detta questa il come dicevo quindi perché si è fatto tutto questo per capire che carte ci avesse in mano la procura dopo questi fatti per sapere se la procura era come prima di Baccaiano cioè se navigava completamente nel buio se navigasse ancora nel buio o meno perché c'erano stati i testimoni perché la vittima che aveva potuto interloquire sentire o venere o sentire qualcosa perché c'è stato tanto tempo dal momento in cui questa vittima è cominciata l'aggressione al momento in cui questa vittima ha preso il colpo di grazia i quattro ragazzi li sono avvicinati nella macchina hanno guardato rientro hanno visto vivo quindi vuol dire che non aveva preso il colpo di grazia si muoveva si agitava rantolava quando arrivano i soccorritori è come morto poi si accolgono tastando giugulare non solo polso che era vivo eh cacchio questo ha cambiato le cose mai successa una cosa del genere e non succederà mai più questo è il motivo per il depistaggio non tanto depistare la procura è ancora naviga nel buio più fitto ovvero no come si fa a vedere gli si fa a vedere l'esca la pista sarda ma siccome si doveva andare a vedere questo eh ma allora attenzione se per caso io gli dico che c'è questa pista sarda no? la mando a trovare un fascicolo dove ci sono bossoli esplosi come le mostre di Firenze devo anche dire perché? gli dico che c'è la lettera anonima devo stare attento perché se per caso la procura ce l'ha invece questo asso nella manica che prima non aveva grazie agli eventi di Baccaiano lì bisogna stare attenti bisogna essersi molto coperti perché dopo diventava sospetto no? se non ha bocca alla pista sarda cominciamo a dire ma perché mi mandavi lì? che è sta pista sarda? se avesse avuto delle informazioni di di peso dai fatti di Baccaiano ma io dovevo andare a vedere se ci aveva o no quindi una possibilità che ce l'aveva queste informazioni ce la si era data no? quando organizzo il depistaggio su al piano il piano che mi aveva coprì anche nell'evento peggiore che la procura non abbocchi o abbia difficoltà ad abboccare e che voglia andare fino in fondo perché io ho aperto la pista sarda e quando dico io dico dell'amico quello che aveva indagato quindi ancora peggio gli dicono che era una lettera anonima si erano preparati caro Angelo a farla vedere sta lettera anonima a fabbricarla quella di Castelletti di Signa che non era mai giunta non era tra gli anonimi giunti in procura e non è giunta mai da nessun'altra parte Castelletti di Signa oggi la possiamo dire nell'ottantadue se la procura avesse chiesto caro tenente tenente condenato dell'amico fammi vedere sta lettera anonima quella di Castelletti di Signa l'avrebbero scritta loro quale ti prego di mettere in video l'appello al cittadino amico appello pubblicato sulla Nazione il 20 luglio del 1981 allora vediamo se riusciamo allora il link che mi ha mandato tramite mail giusto? sì e quello è il trafiletto perché è un trafiletto un appello dai carabinieri per il mostro la spesa presenta condividi schermo esatto condividi mostro di Firenze eccolo qua benissimo vedi? sì prego allora la vedete no? benissimo vedete tutti benissimo questo trafiletto è un capolavoro per chi diciamo lo sa sa legge tra le righe è un capolavoro di comunicazione ambigua è un capolavoro di comunicazione equivoca come abbiamo detto ci si prepara a giocare due partite una quella della lettera anonima finta ma la lettera anonima finta è pericolosa io non lascio in atti un falso se non ci sono costretti regola aurea del depistaggio e qui parliamo di gente addestrata capacissima professionisti delle tecniche della deseggio no? se vedete questa lettera di questo appello al cerchio di un amico cosa dice dice sostanzialmente leggiamolo che il l'uomo questo diciamo segnalatore aveva diciamo già contribuito al all'indagine sui delitti del maniaco no? e l'appello era perché si rimettesse in contatto con loro con quelli del nucleo investigativo non si legge un appello che di anomalo e di poco questo fu un'iniziativa di dell'amico non concordata con nessuno un'iniziativa di dell'amico del capo del nucleo investigativo di Carabinieri di Borgo è scritto all'inizio di questo appello quindi quello che aveva mandato fiori alla ricerca tramite anche fiori aveva mandato trigomi alla ricerca del fascicolo meno leggiamo l'uomo che nella sua ultima lettera si è firmato un cittadino amico e che ha scritto tre volte tre volte affermando di non rivelare la sua identità per non essere preso per mitomani dovrebbe fornire di nuovo la sua collaborazione magari anche solo telefonando nucleo investigativo di Carabinieri allora che succede? loro sanno che le seguenti cose c'è una lettera anonima tra quelle arrivate in procura che era quella del Galluzzo e che dice che c'era un primo duplice delitto no duplice un primo delitto perché il Galluzzo è un fatto della cronacaniera banalissimo in cui non è morto nessuno come sapete ma che sapevano? sapevano che tre lettere anonime tra il novembre 81 e il marzo 82 erano giunte direttamente a Borgogli Santi dal famoso segnalatore del babbo perché si chiama segnalatore del babbo? perché questo in queste lettere e nell'ultima questo era uno che diceva nelle altre lettere diceva che il mostro era una donna o un prete con argomentazioni a di poco deliranti nell'ultima lettera anonima cosa dice quella del marzo 82 dice guardate che il mostro smetterà quando mettendo insieme le lettere dei luoghi dove avrà ucciso quelli dove ha ucciso fino a ora e quelli dove ucciderà si comporrà la parola babbo e già in quel momento in cui scriveva nel marzo 82 infatti lui diceva in questo momento la parola che leggiamo è babbo con una b sola dicendo Borgo San Lorenzo via dell'Arrigono e le Bartolini ok questo era scritto nell'ultima lettera anonima di questo babbo di questo anonimo del babbo il e perché dice questo anonimo io capisco che lui so che lui vuole dire che la sua maniacalità queste sue deviazioni nascono da un rapporto insano col padre questo scrive questo signore nel marzo 82 ecco ora sostanzialmente quindi che succede e come si qualifica questo questo anonimo del babbo si qualifica come un amico che capisce il mostro quindi non come cittadino amico un amico che capisce il mostro cosa di simile questo lo sanno bellissimo lo sa bellissimo dell'amico sono arrivati a Borgogni Santi lettere anonime sa tutto sa quello che c'è e quello che non c'è ok cosa fa qui lo scrive qui qui ti dice qual è la lettera anonima che avrebbero fabbricato se presi per il bavero dalla dalla procura la lettera anonima che avrebbero prefabbricato era la quarta lettera anonima ma del cittadino amico cosa avrebbero detto fabbricato perché perché quella lettera avrebbe parlato di castelletti di signa perché era quello che gli hanno detto no a trigoni una lettera però gli hanno fatto capire che era giunta in procura questo è importante perché vedete ora lo diciamo si sono tenuti aperti il secondo tavolo da gioco quello dell'equivo con la lettera del galluzzo posso togliere qua intanto si un piccolo capolavoro piccolo capolavoro no allora perché la non beh se non l'hai tolto lascialo per un attimo se l'hai tolto va bene no no ve lo rimetto che problema c'è perché volevo farlo di questo no allora cittadino amico la lettera finta che avrebbero fatto parlava di castelletti di signa e sarebbe stata firmata a cittadino amico molto simile no a un amico che capisce il mostro così si era non firmato ma si qualificava così nella terza lettera anonima il segnalatore del babbo e attenzione è lì se l'avete davanti leggete questo questa lettera finta la quarta del del babbo che non era vera no era la quarta sì del babbo attribuita al babbo da quelli di volgogni santi ma l'aveva scritta volgogni santi cioè dell'amico ai suoi questa quarta lettera anonima sicuramente non avrebbe riportato alcun riferimento circa la volontà del segnalatore di restare anonimo per non essere preso per pazzo perché in tutte e tre le lettere forse non l'ho detto prima in tutte e tre le lettere che aveva mandato questo segnalatore del babbo è scritto sempre questo voglio rimanere anonimo per non essere preso per pazzo tutte e tre la quarta quindi perché avrebbero potuto dire ma tu hai scritto tre non nell'appello ma guardate che c'è scritto nell'appello no che questo aveva scritto tre lettere in precedenza io ti dico ma la quarta dico che ha scritto tre lettere però ce n'è una quarta quella arrivata a luglio che firmata a cittadino amico e cittadino amico non lo trovate nelle tre lettere del babbo quelle giunte a Borgo ogni santi e nelle tre lettere ci troviamo sempre questo riferimento circa la volontà del segnalatore di restare anonimo per non essere preso per pazzo non ci sarebbe stata nella quarta quindi io avrei detto sì ho citato che aveva fatto tre lettere in cui diceva che voleva restare anonimo nella quarta no questa sarebbe stata pressoché sicuramente ragazzi la quarta lettera anonima che se fossero stati costretti avrebbero consegnato alla procura perché sarebbe stata la lettera che parlava di Castelletti di Sino avrebbero consegnato questa lettera addirittura corredata da un appello a mezzo stampa in fin dei conti a un segnalatore anonimo che del mostro dimostrava l'isabriane parecchio infatti ricordo che il mostro aveva colpito in località Baccaiano come comincia per B e quindi si stava avvenando la previsione della terza lettera anonima quindi veniva tutto perfetto sì è vero ho fatto uno strano appello se gli avessero chiesto conto ho fatto uno strano appello perché oh questo è un esabarecchio e mi ha scritto questa è la quarta lettera c'è che mi scrive e lì c'era la segnalazione dei castretti di segno se ci fossero stati costretti ripeto se ci fossero stati costretti ma attento questo appello per il modo magistrale in cui è stato scritto avrebbe retto anche nel caso che non si fosse dovuto esibire alcuna lettera anonima no? come è successo perché io non la esibisco una lettera anonima falsa se non sono costretto abbiamo detto regola aurea del depistaggio non la esibisco perché è pericoloso non lascio in atti una lettera falsa ci devo essere costretto cioè la procura doveva reagire insieme come ha reagito della Monica invece della Monica rimasta da sola e alla fine quando il 24 agosto gli è arrivata la risposta del Bologno con i Santi ecco le lettere che mi ha mandato senza di niente senza dire guarda che hai chiesto una lettera su signo ma ti sei sbagliata c'è un equivoco era quella del Galluzzo no niente c'erano tutte le lettere che aveva mandato la della Monica a Borgogni Santi cioè la procura il 2 luglio compresa quella del Galluzzo dicendo che non contavano niente che erano tutte lettere prive di valore investigativo a quel punto la della Monica si è arresa non ha detto probabilmente niente neanche al Tricomi perché il Tricomi il 29 ottobre ancora riciccia sua lettera ci hanno fatto un'operazione grandiosa devo dire la verità viene da ammirarli a questo beh ma come dicevano questo appello se qualcuno gli avesse e gli avesse chiesto a dell'amico ma che hai scritto scusa metti il caso che non ci sarebbe dovuto esibire alcuna lettera a noi beh avrebbe sempre potuto dire il dell'amico che aveva rivolto un appello a mezzo stampa all'anonimo segnalatore del BAP semplicemente perché stando almeno a quanto pareva è la parola si stava verificando la previsione della parola BAP visto che il mostro aveva colpito la carità baccaiana e pensa che persino nel caso assolutamente remoto ma mettiamo nel caso che si fosse prodotta la lettera anonima falsa su Castelletti di Signo quella che sarebbe stata attribuita la quarta del BAP corredata da appello a mezzo stampa e che però successivamente fosse saltato fuori sto segnalatore del BAP e avesse negato di aver scritto sta quarta lettera anonima beh il dell'amico avrebbe potuto rendere una spiegazione plausibile circa il perché aveva disposto un appello del genere se qualcuno gli avesse chiesto un errore di valutazione connesso alla similitudine della locuzione cittadino amico con amico che conosce il mostro e che aveva condotto all'attribuzione della paternità della lettera anonima su signa al segnalatore del BAP un errore di valutazione ma ci sta no? è un appello perfetto perché in quelle quattro righe ci si è un appello multiuso e che non ti mette mai in difficoltà ci fa vedere però una cosa importante che se fossero stati costretti a tirare fuori la lettera anonima che non esisteva e di cui hanno detto a Tricomi ce l'avevano la facevano loro e gliela davano corredato di appello a mezzo stampa a uno che oh cavolo questo ne sa pari vedi la tecnica per nascondere la mano che sta lanciando il sasso bisogna capirlo Carlo ti devo ti devo interrompere e ti dico che manca circa venti minuti poco meno quindi regole di conseguenza perché io sai che devo ma ho quasi fatto infine la terza bugia la terza bugia ancora più clamorosa se vogliamo della lettera anonima la terza bugia è quella del del che diciamo di far capire al Tricomi far intendere al Tricomi che l'esame il balistico il confronto balistico con la Parizia Zuntini nel 68 era stato fatto infatti lascio la parola al Tricomi qui è intervistato nell'agosto del 2011 se non sbaglio da Paolo Cochi che gli fa le seguenti domande ma il maresciallo Fiori entrò in possesso dell'articolo di giornale come? questo non sono in grado di ricordarlo perché il il Fiori sarebbe andato dal Tricomi con l'articolo di giornale che parlava per intenderci di Castelletti di Signa ok? bene questo non sono in grado di ricordarlo rammento che intorno al 20 luglio 82 il fascicolo relativo al duplice omicidio del 68 di Signa era a nostra disposizione nel fascicolo come ormai noto dice Tricomi rinvenimmo una bustina con allegati bossoli di quello strano omicidio bene questo lo sappiamo le perizie del colonnello Zuntini erano all'interno del faldolo ci fu dunque un controllo immediato con i bossoli esplosi dalla famigerata Calibro 22 e ricollegammo gli omicidi cioè parte con la seconda domanda Cochi ma il raffronto dei bossoli fu fatto unicamente con i bossoli ritrovati nel fascicolo di Perugia fu fatta la comparazione con i bossoli ritrovati nel fascicolo e fu confrontata la perizia legata del colonnello Zuntini quella del 68 con le perizie successive redatte sempre dal colonnello in realtà fa casino è una quella del 74 ricordo perfettamente sulla mia scrivania la perizia con le foto dei bossoli sull'omicidio di via dell'Arrigo dell'81 perché come ho detto prima si è fatto fare al ferito stampinato subito la verifica con i reperti del giugno 81 ma quindi allora il giudice tribo che cavoli a volte si scorda di tutto una cosa ce l'ha a fuoco ce l'ha a fuoco chiaro è stato fatto il confronto con la perizia a Zuntini del 68 che era caccio di rigore scusa trovi questi reperti balistici non erano stati trovati sul sulla scena del crimine quattro giorni prima come tutti gli altri questi sono stati trovati spillati a un fascicolo processuale ma ci rendiamo conto ora io qui non devo dire la parola cui e non la dico però e non dico non faccio altri riferimenti però a me mi sembra davvero di avere a che fare con gente che veramente non riesce a capire o non vuole capire ma come reperti balistici spillati in un a un fascicolo processuale ritrovati quattordici anni dopo i fatti e è chiaro che è calcio di rigore che devi andare a vedere la provenienza no? devi fare una verifica con cosa? lo dice Tricomi con la perizia a Zuntini nel 68 bene questo è quello che dice Tricomi sai che c'è in atti zero non esiste alcun confronto mai stato fatto con la perizia a Zuntini nel 68 e tantomeno non si è mai convolto Zuntini nell'accertamento di un atto nel 68 quindi questa è la terza clamorosa bugia detta a Tricomi Tricomi perché se l'abbiamo detto prima Tricomi tutto quello che sa dice è quello che gli hanno detto dell'amico e l'uomo e dell'amico Fiori il subordinato quindi dell'amico e hanno detto che era stato fatto a sto confronto invece non è stato fatto e perché non è stato fatto? ricordiamoci quello che abbiamo visto nel precedente video certo che non è stato fatto qualsiasi confronto si fosse fatto con la perizia a Zuntini nel 68 si sarebbe dovuto come minimo chiamare Zuntini dicendo scusa guarda qua perché hai scritto quasi irrilevabile guarda come sono i bossoli esplosi dall'arma del mostro ti torna? tu hai visto quello questo nel 68 tu confermi che non hai fatto foto dei reperti che hai trovato nel 68 e è chiaro che era radioattivo fare questo che dice Trico è chiaro che non doveva essere fatto se si voleva aprire la pista e qui viene in gioco un'altra figura perché questo dell'amico non lo poteva fare da solo non lo poteva fare da solo perché? perché non avrebbe passato mai il vaglio di un periodo balistico indipendente cosa avrebbe fatto un periodo balistico indipendente Angelo? avrebbe detto beh un momento tu mi porti questi reperti dove li hai presi? ah non me l'ho trovati non ti preoccupare sono quelli dei cassetti di signo ah bene no avrebbe detto magari lui e non a Borgogni Santi direttamente al magistrato che l'avevano caricato a Trico scusa ma ce l'hai la perizia balistica del 68? e avendo e quando avesse visto quello che insieme abbiamo visto noi nel video precedente come minimo avrebbe detto possiamo sentire Zuntini perché non è così immediato dire che l'arma è la stessa assolutamente no la descrizione quantomeno non è se vogliamo proprio come dire forse doveva dire questo non è sufficiente quello che scrive Zuntini il 68 ma però poi si doveva approfondire con Zuntini e che veniva fuori lo sai tu non possiamo dirlo perché non è stato fatto niente mai diciamo diciamo che l'idea mi sono fatto naturalmente ormai io ti conosco da un po' insomma che la storia è piuttosto ingarbugliata cioè nel senso ci sono delle cose che poter fare una valutazione ma giustamente come dici tu dovrebbero essere spiegati al 100% perché questo non è stato fatto perché quest'altro non è stato fatto ho capito però qui giustamente Angelo ma ti sto dando ragione no 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 ma io faccio per amor di discussione a me piace discutere quindi se qualcuno mi critica sono contento la critica qua deve essere intelligente è una cosa giusta è una cosa giusta l'unica cosa che dico però è che qua le cose che non sono state fatte sono enormi cioè quando trovi dei reperti malistici 14 anni dopo i fatti in una bustina spillata a un fascicolo tu non fai niente per verificare che quella bustina con quei reperti qualcuno ce l'abbia ficcata cioè la prova che venivano da Castelletti erano che stavano nella bustina spillata al fascicolo questa è la prova non altro Arcese e Iadevito nell'83 hanno detto che Arcese e Iadevito nell'83 che hanno detto quello che hanno fatto tutti quanti da Spampinato fino agli ultimi quasi ai nostri giorni hanno certificato che quei reperti balistici ritrovati nel tribunale dell'82 erano esplosi dall'arma del mostro certo quindi è chiaro che va bene le rigature ma anche i segni sul fondello lo quadravano a quel punto il problema che nessuno mai ha fatto una cosa una una cosa quale nessuno ha mai fatto la verifica della provenienza e si poteva fare con una sola cosa prenditi la perizia Zuntini del 68 e prenditi Zuntini perché anche con la sola perizia del 68 nonostante quello che abbiamo fatto vedere noi la volta scorsa non era sufficiente a poter dire no non so siamo d'accordo oggi lo diciamo diciamo che è la cosa più probabile assolutamente più probabile però lo diciamo in quanto persone che ricostruiscono storicamente una vicenda ma se devi aprire una pista investigativa se sei un giudice che deve arrestare persone eccetera eccetera non ti basta dire a me sembra che non sono si coinvolgeva anche il perito del 68 e allora veniva fuori delle altre cose anche questi altri calci di rigore Angelo ecco perché io dico si ingarbugliate ma neanche più di tanto perché veniva fuori bastava dirgli ma tu non hai fatto nessuna foto e si diceva che l'aveva fatta come io credo e allora qualcuno me l'ha levata e immediatamente cosa veniva fuori caro Angelo che era un depistaggio quindi si doveva chiaramente evitare il confronto con la perizia Zuntini nel 68 e si è evitata facendo crede a Tricomi che si beveva tutto nella migliore delle ipotesi da dell'amico che il confronto è stato fatto però ci voleva cosa Angelo la complicità le spalle coperte non dovevi avere un perito balistico indipendente e chi era il perito balistico dell'82 ignacio spampinato tu lo sai chi era Angelo penso di sì eh sì ho imparato ho imparato a conoscerlo grazie a te sì io però non dico io sono atti giudiziari se no ti conosciamo questo è un dato di fatto che tu vai a leggere le carte come si suol dire è il palego che fa la fantasy benissimo e invece la fantasy sono carte atti giudiziari vabbè gli atti giudiziari non sono non è tanto fantasy eh appunto allora ti dico due cose chi era dell'amico poi siamo quasi in fondo chi era spampinato e incredibilmente pure Tricomi e sono i tre da cui è venuta fuori la pista sarda sono questi tre e l'interlocuzione tra queste tre persone dell'amico spampinato e Tricomi è così che si apre la pista sarda eh c'è altro allora dell'amico testimonianza di Vincenzo Fenigli agente del sismi nome in codice Casper lo scrive in un libro mai smentito mai avuto che ha scritto a quattro mani quel giornalista noto di inchiesta Luigi Carletti che scrive qual è la testimonianza di Fenigli dal Tuscania feci un nuovo passaggio nucleo operativo dei carabinieri Firenze Oltrarno fu immesso alla prima sezione anticrimine quella che poi si sarebbe chiamata ROS lì venne notato da un ufficiale sempre la ricerca dei talenti speciali si chiamava Olinto Dell'Amico aveva in testa un profilo di agente del tutto particolare un agente giusto per il servizio segreto militare ed è lì che fui chiamato al sismo che dal 77 aveva sussistuto il vecchio SID avevo 21 anni questo ruolo di reclutatore in cerca di agenti speciali per il servizio segreto militare di Dell'Amico non lo troverai in nessun tipo di manzionario organigramma di Dell'Amico e il centro si fu arruolato ovviamente dove al sismo si quale quello di Federico Manucci venne in casa il centro di conto schionario coesistente in Borgo e gli Santi quindi Dell'Amico è un uomo di Manucci venne in casa l'abbiamo letto prima svolge un ruolo parallelo c'è una testimonianza che te lo dice si fa c'è un agente sismo Dell'Amico lo dico chi era che faceva perché è il nostro primo sospettato no? è il regista dell'operazione dell'ottantadue l'operazione Castelletti di Sino Ignazio Spampinato Ignazio Spampinato te lo dicono atti giudiziari da cui ora leggo velocemente uno stralcio se lo trovo ma dovrei trovarlo facciamo subito eh fanno cerchere poi se poi non le trovi mai come sempre meno allora aspetta che lo troviamo è dalla sentenza ordinanza italicus bis vai tranquillo no ti volevo dire che hai dieci minuti esatti a partire mi scuso con gli spettatori però purtroppo Carlo la colpa è anche mia ha degli orari un po' così e purtroppo durante quegli orari ho solo un paio d'ore per fare la trammissione siamo quindi la trammissione durerà due ore spaccate fatto? eh vabbè ora non me la trovo ma la leggerò a memoria no? allora che dice la sentenza ordinanza italicus bis riguardo Spampinato? dice che lo Spampinato passa su istigazione di Federico Mannucci Benincasa attenzione su istigazione di Federico Mannucci Benincasa a chi? allo stesso Federico Mannucci Benincasa dice esattamente la parola su istigazione mi serviva a dire questo ah ecco se passa i risultati della sua accertamento esplosivista sull'esplosivo utilizzato per la stagione di Bologna e li passa a Mannucci ben in casa prima che i magistrati che l'avevano incaricato e dice la sentenza ordinanza che nel frattempo ho trovato ho trovato in più occasioni in più occasioni in Bologna e Firenze tra il 1980 e il 1981 spampinato praticamente concorda i contenuti della sua perizia esplosivista sulla stagione di Bologna con Mannucci Benincasa perché a noi ci rileva quello perché uno perché ti fa capire cosa c'era a Firenze in quegli anni chi aveva in mano la funzione di polizia giudiziaria l'arma dei carabinieri che è in mano all'asse Federico Mannucci Benincasa all'into dell'amico chi era Federico Mocci Benincasa te lo dice la sentenza ordinanza tale Gusbis questo ho letto il capo di spampinato però chi la fa da padrona in questa sentenza chi ha i capi di accusa più clamorosi è proprio Federico Mannucci Benincasa spampinato chi è e guarda caso chi scelgono come perito balistico per esaminare i reperti dell'ottanta qual è il periodo balistico che poteva non darti noia ma ovvio è spampinato addirittura che va a passare e concorda con lui la perizia balistica scusate esplosivista sulla strage di Bologna e attenzione Mocci Benincasa non ha qui c'è stata una trasmissione di Dario Guaglia un altro che sostanzialmente aveva da dire ah no ma volevano volevano far del bene volevano chiarificare l'episodio dico io Mocci Benincasa non ha nessun tipo di competenza e ruolo per fare questo ti rendi conto passargli l'esito di una perizia esplosivista prima a lui e farlo in più occasioni vedersi e quindi chissà cosa c'è in quella perizia esplosivista che non doveva esserci ovvero non c'è cosa invece doveva essere c'è chi lo sa certamente è gravissimo che nel più grave attentato terroristico italiano abbiano concordato la perizia sull'esplosivo utilizzato per la strada c'è un dato fondamentale tra spampinato fare la perizia gli fa vedere lo stato di avanzamento lavori a uno che non c'entra niente ma non ci bene in casa che è un passante il 2 agosto la mattina del 2 agosto lo troviamo a Bologna nei pressi della stazione e le motivazioni che ha dato sono state sempre poco chiare ok questo è il perito balistico indipendente tra virgolette che fu chiamato a esaminare i reperti ritrovati nel tribunale di Bologna di Firenze nel luglio 82 questa non è la fantasy di Palego come dice il soggetto Olla e altri eh non è la fantasy sono atti giudiziari sono carte che ci dicono questo e guarda caso guarda caso Angelo con questi personaggi e non si fa non c'è niente in atti che certifichi un confronto balistico dei reperti trovati nel 82 con la verità aggiuntiva nel 68 e guarda caso per pura coincidenza eh la verità aggiuntiva nel 68 eh come dire non ci consente di dire che i segni sui fondelli dei boss sono gli stessi ma io dico non ci consente proprio se vogliamo chiaramente non essere proprio opporsi e mettersi il prosciutto davanti agli occhi in realtà consente consente di dire cosa? che non erano un segno descrive Zuntini nel 68 non lo posiziona correttamente a sinistra sulla sezione sinistra del fondello dei boss dice che il segno dell'espulsore è quasi irrilevabile ho fatto vedere le foto di com'è un fondello esploso dall'arma del mostro non è impossibile descrivere una roba del genere descrivere la comanda scritta Zuntini nel 68 avendo di fronte un boss esploso dall'arma del mostro questa non è fante sono fatti sono circostanze oggettive ok? quindi lo stampinato è questo il secondo soggetto da cui è scaturita l'apertura della questa salda poi c'è il terzo Tricomi Tricomi addirittura scappa fuori incredibilmente lui era uno che frequentava sì era solamente un conosceva benissimo il dell'amico ma frequentava il Mannucci Benincasa anche al di là del contesto lavorativo chi lo dice Palego no lo dice atti di indagine addirittura sulla tragedia di Ustica del 19 di Ustica perché partono stralissime telefonate dal centro di controspionaggio di di Firenze che mettono mettono in mezzo affaticato dicono che era sull'aereo non si capisce che cosa che tipo di strategia se non quella vagamente e confusamente definibile come depistante però altro non si riesce proprio a capire comunque anche per questo troverete nella sentenza italicus bis un capo d'accusa nei confronti di Mannucci Benincasa perché è chiaro sono partite dal centro di controspionaggio queste strane telefonate sono partite dal centro di controspionaggio del sismi di Firenze no diretto per vent'anni da Mannucci Benincasa il bene ma il a un certo punto il Mannucci dice no no ma su quell'aereo dov'è esserci Trico sul dici no caduto nei cieli di Vustica come sappiamo e dice ma e come mai si Trico mi conferma conferma di averlo detto a Mannucci Benincasa quando in occasione di una cena conviviale a casa sua per le festività credo di Natale Capodanno questo è Ariatti quindi vuol dire che tutti e tre tutti e tre questi personaggi da cui è scaturita l'apertura della pista sarda nei modi totalmente anomali che abbiamo descritto che abbiamo visto sia nella precedente puntata sia in questa sono tre personaggi legatissimi e diciamo sodani di Federico Mannucci Benincasa chi è Federico Mannucci Benincasa vuol dire una sola cosa Mannucci Benincasa vuol dire cellula stay behind livello guerra non ortodossa italiana e in particolare tra il settantaquattro e la metà degli anni ottanta Toscana basata a Firenze dentro Borgogni San presso il centro di contaspionaggio del Sid Poesismo comandato per vent'anni da Mannucci Benincasa leggetevi la sentenza Italicus Bis del Tribunale di Bologna del 1994 e base di riferimento base militare extraterritoriale di riferimento Camderby che sta diciamo in fondo alla Val d'Arno cioè a Tombolo Tirrenia di Pisa ok è in questo è lungo la Val d'Arno tra Firenze e Tirrenia di Pisa che si snocciola la struttura stay behind di Toscana e del centro Italia la più importante struttura di guerra nord-odossa tra il 1974 e il 1985 se uomini di questo tipo scendono in campo nell'estate 82 dopo i fatti di Baccaina per di fatto andare a capire che carte ci avesse a mano la procura dopo questi fatti e giocando una partita contro la procura di fatto contro la procura aprendo una pista investigativa che sappiamo un po' e cosa ha portato c'è una sola spiegazione l'unica che possiamo dare chi si voleva coprire era qualcuno al vertice di quella cellula solo uno così solo per uno così si può fare quello che si è fatto nell'estate 82 con le persone che si sono messe in campo con il rischio di bruciare soggetti di primo livello che non si sono fatti bruciare certamente per la preparazione la capacità abbiamo fatto vedere l'esempio dell'appello al cittadino amico c'è gente capacissima però cavoli si è giocato una partita sul filo del rasoio non è che lo fai per uno qualsiasi cioè lasciamo perdere i compagni di merende o sardi diciamo semi analfabeti ma sicuro non lo fai neanche per un olinto dell'amico non lo fai sicuramente per uno come vigilante anche se noi nei nostri video abbiamo dimostrato il suo coinvolgimento ok ma il vero mostro è qualcuno che è in alto altrimenti mai si sarebbe fatto non solo quello che si è fatto nell'82 ma mai si sarebbero messi in gioco personaggi di questo livello che si sono messi in gioco è chiaro non è tanto un garbugliato questo Angelo perché questi sono i fatti che ce lo dico allora Carlo io purtroppo devo necessariamente no no io ho chiuso dico solo questo quando è che il mostro ha colpito ha colpito nei periodi in cui non era in sonno la struttura di cui ho detto la cellula stay behind di Toscana ok faccio solo notare che quando la cellula stay behind una cellula stay behind qualsiasi fonte indagine rosa dei venti indagine rosa dei venti condotta a Padawan nel 74 dal giudice Tamburini testimoni Amos Piazzi e Roberto Cavallaro sappiamo da quell'indagine che quando una cellula stay behind di questo tipo era non in sonno alcuni uomini di vertice avevano una copertura assoluta senza se e senza ma senza possibilità di distinzione ok quando colpisce il mostro quando c'è questa copertura faccio solo presente e poi ha finito i periodi di sonno e di attività della cellula stay behind di Toscana quelle del mostro li sapete tutti certo la cellula stay behind di Toscana esordisce nel 74 con una serie di attentati che culminano quello dell'Italicus in quell'anno a strutture infrastrutture e convogli ferroviari lungo la linea strategica la tratta strategica di comunicazione strategica Firenze e Bologna e poi stoppa 74 e poi si ferma si ferma per sei anni riprende l'attività nell'estate dell'80 il grosso l'ho descritto prima la strategica di Bologna ma ci sono poi altri attentati fra l'80 e l'85 l'ultimo attentato del dicembre 84 e la cellula esce di scena a metà circa diciamo nei primi mesi diciamo così dell'85 questo è i periodi di sonno di attività della cellula Stavia confrontatevi con quelli del mostro in quanto mostro di Firenze e ricordatevi che fonti storiche ci dicono che quando la cellula era attiva alcuni uomini di vertice godevano della diciamo così con un termine cinematografico ma è per farmi capire non tecnico licenza di uccide copertura totale quando era attiva non quando era insomma ok quindi sappiamo dove dobbiamo cercarlo al mostro dobbiamo cercare a livello di vertice di questa cellula di questa struttura clandestina che fu la più importante struttura di guerra non ortodossa dispiegata nel territorio italiano basata a Firenze e dintorni tra il 74 e l'85 che ebbe quale obiettivo principale attacchi a strutture e convogli lungo la tratta ferroviaria Firenze Bologna e che non vuol dire che il mostro gli omicidi del mostro sono atti di strategia e c'è dell'attenzione è il mestiere del mostro non le sue finalità che sono quelle di un serial killer il problema era il mestiere che faceva possiamo escludere che uno che faceva questo mestiere che era un uomo di vertice di una cellula clandestina di questo tipo fosse un serial killer non solo non possiamo ma abbiamo atti e documenti ufficiali di grande importanza cito per esempio quello del centro alti studi militari del 63 che ci dicono come la probabilità di imbattersi in serial killer in strutture di questo tipo fosse esponenzialmente maggiore di imbatterse in assassini seriali che non nella vita di tutti i giorni era esponenzialmente maggiore perché in ragione dei criteri di reclutamento del resto si può capire non si reclutavano boy scout o filantropi per fare certi tipi di azioni questa cellula la più importante di quelle schierate in Italia la trovavi a Firenze e dintorni negli anni del mostro grazie caro Angelo bene allora ti ringrazio allora mi si sente sì perché mi sono attivato devo dire che negli ultimi 15-20 minuti la tua immagine è rimasta ferma ma io ti ho lasciato parlare perché si sentiva benissimo quello che sai perché basta bene perché mi è andata in free con safe screen nel computer va bene ok ok però che l'immagine che tanto io una bella figa non sono io ti saluto veramente con il cuore devo salutarti anzi non riesco neanche a rimanere ora ah ok sei ripartito ok non riesco neanche a rimanere perché mi stanno già chiamando quindi tra l'altro grazie coloro che mi hanno ascoltato ci vediamo poi parleremo in chat chi vuole in chat commenti io sarò sempre lì lo sai mi raccomando mettete lo sticker e soprattutto anche te stasera metti lo sticker di presenza assolutamente anche 99 centesimi va più che meno va bene io inizio subito con un bello sticker bravo bravo stasera alle 21 e 30 ciao Carlo ciao a tutti ciao Carlo